Un grandissimo scrittore italiano, umanista e sociologo pacifista ha riconosciuto pubblicamente che la donna non è per storia e natura monogama, ma poliandrica in tutti i sensi, essendo innata in lei la possibilità di amare più figli, a differenza del maschio, naturalmente non in tutti i casi, per fortuna. Ricorda che anche tu sei stata tante volte donna e tante volte uomo. Forse questa risposta propone in una nuova luce per chi è pronto a riceverla ogni maschilismo e ogni femminismo. Grazie a tutti.